Sì, io sono angosciato dal problema economico, quindi sono un aperturista, perché temo che la realtà rimarrà contro le cicatrici enormi, gli esercizi chiusi, e temo la rivolta sociale di questa auto, i licenziamenti, le aziende, per cui aprire e prendersi il rischio, mi pare che questo sia il senso. Alessio, che succede?